bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gavri io birillo oggi andremo recensivo il nostro nuovo liquido vai birillo esplorizio allora liquido patti è un vino alla vaniglia con del pane andiamo a fare la prova di svapo e considerazione finale allora è un 80 20 dovrebbe essere perché non c'è scritto sopra 70 30 80 20 molto denso si vede la densità del liquido ora andiamo a fare la prova di svapo 0 nicotina e vagabili di riparo io di riposo l'alber io sono un match però con due plan vai gabry come lo senti ma pure ne fa e io sono buono molto buono si arriva il colpo in bocca come mi piace si è una tortina vanigliata la vaniglia è molto leggera sembra tipo caramello vaniglia cannella ci sono un po di scannere sull'amma e spinge bene vaporizza bene anche se c'è il suo ciabino normale senza io che voto ci dai gabry a questo lì io ci do un set si un set perché si sente un litro bello forte e dolce senti bene dolce sono lipidi a me mi piacciono così cremosi che ti danno un po' un litro dolce in bocca che ti lascia tutto lo zucchero in bocca mi lascia la bocca impastata la bocca non pastata no però mi lascia molto zuccherosa la bocca mi piace di più del magari un fruttato che quando dopo un po' non sento più niente in bocca invece con questo liquido essendo molto dolce la torta vanigliato così mi lascia un sapore in bocca che mi piace ci do un set e sete e mezzo come voto io ve lo consiglio se qualcuno vuole provare in alternativa al to puff o altri liquidi simili similari un buon liquido dalla tavola svap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale e ricordate che abbiamo il canale su instagram se ci volete seguire su facebook un saluto dalla tavola svap un bacio